In questo luogo risiede uno dei responsabili del complotto. Molto tempo fa, giunto al cospetto del mio trono, mi mostrò le scene della mia fine, che sarebbe stata causata, a suo dire, dagli eroi e che avrei potuto evitare se fossi diventato immortale. Ora so che questo era solo un trucco. Il consigliere si tramutò in un'enorme bestia di pietre, aiutata da scagnozze ridotti in schiavitù. Sarà la sua sconfitta per mano degli eroi, a porre fine al mio quarto dolore. La sua sconfitta per la sua sconfitta per la sua sconfitta. La sua sconfitta per la sua sconfitta. La sua sconfitta per la sua sconfitta per la sua sconfitta. L'elfo rosso ha un bisogno disperato di cibo. L'elfo rosso è morto. L'elfo rosso è morto. L'elfo rosso ha un bisogno di sparato di ciò. L'elfo rosso è morto. L'elfo rosso è morto. L'elfo rosso ha un bisogno di sparato di ciò. L'elfo rosso ha un bisogno di sparato di ciò. L'elfo rosso è morto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.